Grazie, questa è la nuova cotoletta di capra, di cervo, cotoletta di cervo. Secondo me non è versata bene. Cioè non ti dico l'odore che fa, indegno. Ah, mamma mia. Questa è una cotoletta. Di cervo. Di cervo, come dicono i bologni, un cervo. Pensavo che esplodesse, succedesse qualcosa. Cracco!